Lo stesso non cambia nulla, è sicuro che loro fanno la sua partita, hanno qualità, hanno esperienza a livello internazionale, è una partita difficilissima, dobbiamo fare due gol e se loro fanno gol dobbiamo fare un terzo, lo sappiamo, è così, niente da nascondere, è solo arrivare e provare a fare il meglio. Ho detto che non è facile giocare due partite alla settimana dall'inizio delle stagioni, abbiamo più punti che l'anno scorso, abbiamo fatto una Champions spettacolare, adesso l'Europa League e la finale del Coppa, sono tante cose positive che io credo che se arriviamo alla partita giovedì, la squadra dà tutto, passiamo il turno, perfetto, se non lo facciamo l'unica cosa che chiedo alle giocatori è dare il 100% e vedere dove arriviamo. Sappiamo che il Porto è una squadra forte, difficile, abbiamo fiducia in noi stessi e guardiamo questa partita come la più importante e dopo si guarderà la partita della Fiorentina.